Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro amico FremontiCinquite e vi parlo al content care game Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video Oggi ragazzi faccio un video molto breve un video asta per una carta molto speciale ragazzi la carta in questione è questo fantastico Articuno X Full Art di Plasma Gale la carta in questione è giapponese First Edition ragazzi in mente manca un graffio praticamente è perfetta è una carta molto rara e la sta parte da 20 euro ragazzi quindi veramente una super offerta mi raccomando fatemi le vostre offerte qui sotto nei commenti non là sopra e niente ragazzi aspetto le vostre offerte chi offrirà di più naturalmente se la potrà aggiudicare ripeto come potrete vedere da qua è First Edition carta veramente spettacolare guardate che gioco di colori che fa assurdo e per soli 20 euro ragazzi è veramente una buonissima offerta perché non la troverete mai a 20 euro e niente aspetto le vostre offerte vi ricordo di iscriverti di commentare e di lasciare un bel mi piace a questo video e niente passate sulla mia pagina Facebook che ha raggiunto i 250 mi piace grazie a tutti i ragazzi e niente puntiamo per i 2000 iscritti apro una piccola parentesi ho cancellato tutti i video dei film pokemon ragazzi perché me ne hanno bloccato uno per copyright e io non ho voglia di rischiare il canale per dei miseri video quindi li ho levati e niente aspetto le vostre offerte per Ticuno ripeto è giapponese First Edition Mint della serie Plasma Gale e niente Raffaele Nati 5 è tutto ci vediamo al prossimo video bello raga